mi sfugge mi sfugge l'equazione venerdì de pasqua traffico de natale secondo questo mare me sfugge l'equazione me sfugge anzi e il concetto è uno un dato di fatto è certo venerdì de pasqua a lavorare sono oggi a lavorare e come diceva il nonno tutti quanti il nonno ebreo punto morte tutti intorno a lui no 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 insomma tutto tutta la leggera per terra a un certo punto nonno alza a destra i negozi chiesto che stavo giù ma oggi a loro tutti a comprare ova tutti a comprare gli agnelli mi serve la macchina per andare a piare l'agnello boh secondo te sto male oggi a lavoro c'è il nisuno oggi a lavorà nisuno io sto andando al dentista proprio per farmi l'ultima trampa prima de pasqua traffico de natale ma il sole arte in cielo non se lamentamo andrò a comprare l'agnello pure io porta bagagli inersi qui io non ce l'ho boh equazione venerdì de pasqua traffico de natale mi sfugge secondo te sto male stauz